La scuola ha detto che è in continua evoluzione, è sempre stata in evoluzione, quindi fra i vari ministri che si alternano con riforme e soprattutto è grazie alla buona volontà dei docenti, dei dirigenti, perché no, che cercano di mandare avanti la scuola indipendentemente da tutti i vari cambi che ci sono. I ragazzi cambiano, cambiano anche la società e quindi ce le dobbiamo adeguare costantemente, tutti i giorni, ai nuovi studenti. Ecco, cosa ne pensa lei della nuova riforma alla buona scuola? Ci siamo, un'altra riforma, una riforma che ancora deve essere completata. Io sono in attesa di vedere quali saranno le effettive novità, anche perché comporta sempre delle difficoltà dove sia sindacati, politici vogliono mettere bocca e quindi io sono in attesa di vedere di cosa si tratta. Ci sono delle novità che saranno apportate e saranno importanti. Bisogna avere coraggio a fare anche una riforma. E del ruolo del dirigente scolastico è un dirigente in un'ottica un pochettino più allargata. Che cosa ne pensa? Appunto, anche qui, allargata. Allargata in un certo senso. Perché se per allargata si intende la chiamata diretta, chiamata tanto contestata, non so quanto sia una riforma totale. Anche perché ci vorrebbe non solo la chiamata, ma anche la possibilità di stabilire chi docente, quale docente può rimanere nella scuola. Detto questo qui, io personalmente, in una proposta che avevo fatto attraverso il questionario del governo, avevo proposto che i dirigenti avessero quantomeno la possibilità, non dico di chiamare, ma quanto di poter stabilire se un docente è in grado o meno di stare in una determinata scuola. Ecco, e il ministro Poletti ha detto che tre mesi di vacanza per gli studenti sono troppi. Ecco, lei cosa ne pensa? Come andrebbero impiegati questi tre mesi? Il ministro Poletti non sa forse ancora a quali studenti anche si riferisce, perché se prendiamo la scuola superiore, se consideriamo che gli esami terminano entro il 15 di luglio e gli esami cosiddetti di recupero per riparazione dei debiti iniziano prima della fine di agosto, quindi non sono i tre mesi. I ragazzi hanno bisogno anche di rilassarsi e di riposare, è detto chiaramente che sta a loro impiegare il tempo. I docenti, come le ripeto, per quanto riguarda la scuola superiore ai tre mesi, forse una volta ce l'avevano adesso, non credo. Ecco, una battuta sull'edilizia scolastica. Quali sono le criticità per quanto riguarda i licei poliziani e in quale soluzioni stiamo lavorando? Io fortunatamente per quanto riguarda il liceo classico, scientifico e delle scienze applicate ho un'ottima struttura di recente costruzione da fare invidia alle scuole in Toscana. Viceversa per quanto riguarda il plesso del liceo linguistico e il liceo delle scienze umane è un vecchio edificio carente in alcuni aspetti, non nella sicurezza perché è un edificio aggiornato, però potremmo lavorare ancora meglio e avere molti di più per quanto riguarda laboratori e strutture stesse.